Sono Concetta Laurentaci, medico-fisiatra presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera e segretaria nazionale dell'Associazione Italiana Donne Medico, una società scientifica che si occupa da sempre di medicina di genere, una branca medica che studia le differenze tra genere maschile e femminile nell'approccio multidisciplinare alle patologie. Ogni malattia può avere differenti ricadute nel genere maschile e femminile in termini di appropriatezza delle cure ed efficacia delle terapie farmacologiche. La mia relazione verterà proprio sulle differenze di genere nell'ambito del dolore.